io lo so cosa starete pensando starete pensando giustamente ivan vuole parlare di questo profumo oppure starete pensando questa boccetta è mezza piena o mezza vuota in realtà no nessuna delle due cose oggi voglio fare un video diverso quanto pesa questa boccetta 300 400 grammi se la tengo così velocemente e poi la poso non è un problema se la tengo un paio d'ore anche un'ora avrò il braccio indolenzito ma se sto tutta la giornata così se la tengo alzata per tutta la giornata chiaramente avrò il braccio paralizzato ma il peso della boccetta rimane sempre lo stesso tutte le preoccupazioni le lamentele i dubbi le cose negative che nutrite nella vita se le alimentate per poco non è un problema ma se le alimentate sempre costantemente se state sempre lì a pensare e a ripensare alle cose negative resterete paralizzati e allora a te carissimo amico mio che ti voglio bene più di un fratello prendi questo profumo e posalo